Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa del 30 novembre, un po' spettinato ma oggi finalmente una giornata straordinaria, 20 giorni, 30 giorni di pioggia, a Milano è uscito finalmente il sole, ieri sono andato a Treviso a presentare le tasse invisibili, insomma devo dire che voglio salutare tutti quanti gli amici che ieri erano all'istituto turistico di Treviso perché è stata una serata bellissima e soprattutto oggi è una mattina straordinaria, finalmente un po' di sole, sapete cosa dovrebbe fare oggi con questo po' di sole? Poter uscire sapendo che per fortuna oggi non ci sono quei rompiballe dei Black Friday, Block Friday, For Friday, For Future, come diavolo si chiamano questi rompiballe qua che ci scassano le scatole in città per fare casino perché non vogliono il consumismo ma di questo ne parleremo dopo. Oggi possiamo riprenderci le città, spero che non ci siano nessuno che ci rompa le palle, voglio andare al parco, voglio godermi questo sole, però prima di godermi questo sole voglio salutare tutti quanti voi che siete qua in collegamento sui nostri siti, sempre di più, toc toc Mauro e grazie per esserci a UG a tutti quanti voi perché vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata. Il primo tema ovviamente è quello che noi pensavamo essere ovviamente perso, finito e cioè quello degli attentati dei fondamentalisti islamici, anche se non sono mai fondamentalisti islamici e sembrano come sempre un coltello che va addosso delle persone. In realtà è evidentemente un pazzo, Alessandro Orsini, correttamente oggi sul Messaggero, parla di una strategia ISIS, attacchi low cost, è quello che c'è stato a London Bridge ieri, morte due persone, by the way, uccise da questo terrorista, uomo armato che in realtà è stato fermato e ucciso dalla polizia e dai passanti, altrettanto stava avvenendo a Laia, in Olanda, ma il titolo più azzeccato di oggi lo trovate sul Daily Mail, il giornale popolare, quello che non piacerebbe alle persone per bene italiane, quelli che si leggono Il Fatto, Il Corriere, Repubblica, questa gente qua il Daily Mail non se lo legge, ma il Daily Mail è una goduria mostruosa. Il Daily Mail oggi titola Bravery on the Bridge, coraggio sul ponte, poi scusatemi l'accento che mi sembra abbastanza renziano, però il concetto è molto chiaro, cioè in realtà è come una specie di ribellione della società occidentale verso questi che ci hanno rotto le scatole e che i i nostri poliziotti uccidono quando si trovano con il loro coltello. Salvastati, l'altro grande tema della giornata, oggi ci arriva anche il Corriere della Sera con una bella pagina che vi spiega che cos'è il Salvastati, in realtà la notizia di oggi è politica, in attesa dell'audizione lunedì di Conte, insomma la questione del Salvastati è molto semplice, e cioè che Di Maio ha detto che se non viene rimandato, se viene votato questo Salvastati, il governo salta, o si rinvia o cade sul governo. Nel frattempo Tria, dopo aver rilasciato ieri un'intervista, oggi sul Sole, dice che la revisione del Salvastati non peggiora le regole. Vedremo, anche perché la revisione l'ha fatta lui, l'ha fatta lui durante il governo in cui incidentalmente mi sembra che ci fosse come vicepresidente del Consiglio Salvini, vicepresidente del Consiglio Di Maio e presidente lo stesso Conte. Non vorrete che io dia ragione a Conte, ovviamente, però francamente mi sembra che tutta questa vicenda del Salvastati, di tutto questo complottismo sul Salvastati, insomma, santo Dio, io capisco le cose di quattro anni fa, cinque anni fa, il Belin, capisco tutto quanto, però il Salvastati, cari amici miei del centrodestra, toc toc, cari amici miei leghisti, e c'eravate voi al governo, non è una cosa di oggi, è una cosa che nasce con il vostro ministro Tria. Allora, il Salvastati può essere giusto, può essere sbagliato, sicuramente, come sempre, le cose europee fanno male all'Italia, che in genere fa sempre la prima delle classi e poi viene fottuta, però non possiamo far finta che ci sia il complotto internazionale sul Salvastati o no. Abascal, leader di Vox, l'ultradestra, come viene definita da tutti quanti, secondo me dice delle cose abbastanza interessanti sul Corriere della Sera, intervistato da Aldo Cazzullo, questo leader di Vox, dice due o tre cose che io vi consiglio di leggere. Prima, dice Sánchez, il socialista, pur di fare un governo senza di noi, vi suona qualche cosa? Il PD, pur di fare un governo senza Salvini, il socialisti, pur di fare un governo senza Vox, ci mette dentro comunisti, terroristi, separatisti, pur di stare senza di noi. Loro sono un po' più infelici rispetto a noi, però, insomma, la sintesi è molto simile, Cazzullo fa bene accoglierla. E poi l'altra cosa dice stiamo morendo di genere, stiamo morendo di parità di genere, di retorica, di cazzate, tutti quelli che sembrano difendere le donne a parole e poi in realtà quando muoiono cinque donne nel Mediterraneo oppure si offendono perché noi chiamiamo una persona a 43 anni ragazza, ecco, su questo si crea una sorta di bolla di ipocrisia per cui le donne che si difendono sono solo le amichette loro, le altre invece sono carne da macello, è tipico, insomma, delle parità di genere, no? Ma lasciamo perdere, lasciamo perdere. Chi paga i 130 viaggi, 50 viaggi di Renzi? Il Fatto Quotidiano e Belpietro sono fissati contro Renzi da tempo, legittimamente, ognuno ha le sue fissazioni, ma sulla questione dei viaggi è molto semplice, se ti pagano dei soldi per fare un convegno i viaggi forse sono pagati, non lo so, 18 mesi di conferenze a gettone, quindi Renzi non può fare le conferenze a gettone. Nel frattempo, cosa succede? Bellissimo, Vespa oggi su Quotidiano Nazionale dice che il 93, il 90% dei italiani ha votato contro il finanziamento pubblico dei partiti, il problema è che da quel momento in poi i partiti non hanno più risorse e quindi, dice Vespa, dirò una cosa molto impopolare, ma secondo me i partiti bisogna che abbiano un finanziamento pubblico. Però Salvini dice che la Lega e 5 Stelle non erano d'accordo, sì, e se le 5 Stelle e la Lega non erano d'accordo, dice qualcuno di voi, riguarda il salvastati, poteva fare una battaglia all'epoca e non solo oggi, posto che io ho molti dubbi su questo salvastati, così come col Belin, non peraltro, ma perché quando lascia arbitrarietà all'Europa, l'arbitrarietà è sempre contro l'Italia. La stampa con Grignetti continua nell'inchiesta su Renzi e dice quegli strani rapporti con Gavio, che è, guarda caso, un grande concessionario autostradale. Il giornale decide di titolare su Di Maio, ma su un tema completamente diverso e sapete qual è? È il fatto che due stabilimenti dell'IKEA sono stati cancellati dall'Italia e il motivo è perché hanno rotto, i Nitz continuano a rompere le balle, questi del Movimento 5 Stelle, sulle chiusure domenicali. Allora, invece di fare tante minchiate, toc toc, non pensate che sia soltanto il giornale che ce l'ha coi grillini o solo Porro che ce l'ha coi grillini. Sul sale 24 ore oggi, dice il Movimento 5 Stelle, rilancia la chiusura dei negozi di domenica. Se voi foste il signore IKEA, se voi foste un imprenditore in cui il vostro modello di business, giusto o sbagliato, funziona anche la domenica e vi dicono che in Italia stanno governando dei signori che vogliono le chiusure di domenica e, oltre a questo, il mercato non sta andando bene, che fate? Aprite di domenica? Investite in Italia? Ve ne andate! Andate in un paese che vi fa i ponti d'oro per prendermi, noi in ponti di merda come fanno questi nostri politici che abbiamo eletto, perché sono legittimamente eletti. Oggi, in realtà, gli unici che meritano di governare dal punto di vista elettorale sono i grillini e non certo il PD che ha perso le elezioni. Ma vabbè, andiamo avanti. Straordinario! Oggi il Sole 24 Ore che mi dà molte soddisfazioni perché fa le cose che in un... Dov'è il fatto? Dov'è il giornale degli scandali? Dov'è il giornale della casta? Dove sono finiti? Dove ci sono? Dov'è? Dov'è quel giornalismo dalla schiena dritta? Dov'è Travaglio che si arrabbia con Fabio Fazio? Fabio Fazio, secondo quello che racconta oggi il Sole 24 Ore, ha una società di cui è socio al 50% che produce il programma suo che va in Rai. Bene, questa società ha quintuplicato i suoi utili e ha 11,5 milioni di fatturato che va solo con la Rai. Allora, Fazio ha una società che produce il suo programma, fa 5 volte più utili rispetto all'anno scorso, fattura solo con la Rai e Fazio, secondo voi, si fa pagare dalla società che produce il programma o dalla Rai? Dalla Rai! 2,2 milioni della Rai! Non so se ricapitolo bene, l'ho letto oggi sul Sole 24 Ore, ma un po' si sapeva. Quindi Fazio fa un programma, lui personalmente viene pagato direttamente dalla Rai e poi la Rai paga anche una società di cui Fazio è socio al 50%, ma la società di cui è socio Fazio non poteva pagargli anche lo stipendio? No, perché così si raddoppiano gli introiti. Io la trovo stupenda! Io vorrei, vorrei fare Fazio, io con 2,2 milioni, aerei privati, Lamborghini, mi sparo tutto, mi sparo tutto, prendo mia moglie e figlie e mi faccio un viaggio della Madonna, come ho fatto, ma me ne faccio altri 5 di viaggi della Madonna, goditeli! A differenza di questi deficienti che hanno, e ce lo racconta il foglio oggi, manifestato contro il Black Friday. Questi quattro ragazzini sono il più vecchio cliché, antisistema, anticonsumo, sembrano proprio la ragazzina rincoglionita che diceva a Mario Brega nel film di Verdone, avascista! Che lui gli risponde, so comunista così, tra l'altro Brega è identico a Bonaccini, ma questo è un altro discorso. Ma quello che voglio dirvi, sti quattro deficienti che vanno per strada per boicottare il Black Friday e oggi c'è Luciano Capone sul foglio che scrive un pezzo meraviglioso! Meraviglioso! Tra l'altro il Black Friday, concentrando gli acquisti in un solo giorno, è anche meno inquinante nel diluirli in tutti gli anni. I magazzini sono pieni, la luce è sempre quella, i distributori hanno sempre lo stesso spazio. E poi ci spiega un'altra cosa, ma vogliamo la decrescita felice, questi coglioni che manifestano il lavoro, chi glielo dà? Babbo Natale! Toc toc! Babbo Natale ve lo dà il lavoro? O le aziende perché si produce e si consuma? Ma dai, è una roba pazzesca! Nel frattempo, sempre sul foglio, c'è un altro pezzo, oggi il foglio l'ho letto con grandissima attenzione, Federica dice ma basta con sto Black Friday, io ieri ho comprato soltanto del caffè su Black Friday, 30% di sconto, per il resto non ho preso nient'altro, in genere vengo sempre fottuto, ma ieri invece ho resistito. Sull'Economist, di questa settimana, riportato dal foglio e da Stagnaro, ci spiegano esattamente i motivi per i quali la tesi di Piketty, per cui il mondo è sempre più disuguale, che tutti ripetono a pappagallo, sia dal punto di vista economico sbagliato. Non è vero, secondo l'autorevole Economist, come lo chiamano tutti quanti, che il mondo sia più disuguale. Leggete, non porro, con la disuguaglianza fa bene, leggetevi l'Economist, che ci arriva un paio di anni dopo, ma insomma l'avevamo capito che anche quello era un cliché. Fantastico il candidato 5 Stelle a Reggio Calabria. Toc toc, travaglio! Io non dico di ricordartelo, visto che ti dimentichi tutti quelli che riguardano i 5 Stelle, ma il candidato di 5 Stelle, candidato alla Calabria, che ha il super abuso di Lizio di cui ci ricorda oggi Belpietro, dove stavi? Te ne sei un attimo distratto, Presidente alla Calabria? Oppure fai sempre quella robetta lì da... quando fa travaglio, in cui ci spiega, eh ma quello è il partito in cui dopo, quando vengono pizzicati con le mani in mano, lasciano i loro posti? Ma è una cosa fantastica, per fortuna che ci sono giornali diversi dal tuo che se ne accorgono, perché se fosse per il fatto non se ne sarebbe accorto a nessuno che c'è un abuso di Lizio grande quanto una capanna nel Presidente della Regione Calabria. Se fosse stato per il fatto, nessuno si sarebbe accorto, cosa che oggi i giornali scrivono, che l'ex ministro del Movimento 5 Stelle, 30, che si voleva candidare a guidare il Movimento 5 Stelle, ha piazzato in tutti quegli appartamenti gli amichetti suoi, e uno di questi amichetti, un generale, un colonnello, non so che minchia, gli ha dato l'encomio il giorno in cui se ne andava via, come i principi della scaletta della monarchia, gli ha dato l'encomio perché il suo stipendio poi nel futuro potesse andare sotto un grande possibile aumento. Infine, Exor, cioè sostanzialmente gli Agnelli, non è cosa da poco conto, si vogliono comprare la Repubblica. Insomma, il vecchio De Benedetti se la voleva prendere e i figli nel frattempo, zzzac, gliela vendono a John Elkan. Insomma, che gli Agnelli si riprendono, o la famiglia Agnelli si riprende Repubblica, si prende Repubblica che concentra Repubblica, stampa, espresso. Insomma, non è male, non è male. Io direi che cosa possiamo fare oggi? Andiamo al parco, sole, birretta, bambini e siamo a posto. E i giornali per oggi, ciao! Ciao!